Salve a tutti ragazzi, sono Medara e come potete vedere ho fatto la stanza nuova che vi dicevo ho messo un po' a raccogliere tutta la legna però ce l'abbiamo fatta e sconsicono di fare il pavimento che ho messo a cuocere dalla cara ho messo a cuocere un po' di pietra e finiamo qua come vedete quella pietra che ho cuociuto ho fatto gli scalini questa ghiaia una flitta e finiamo con la pietra molto bene non te sono andato a prendere i minerali che vi dicevo in quella grotta questo cioppe, smeraldo, il secondo me cosa è lo smeraldo un po' di aero facciamolo cuocere un po' ho messo qua un pochettino e qua cosa c'è? cuocisce un po' ottimo ora io direi che mi appiccico questa questa fornace ne ho ah ne ho ancora? si ok e direi che ci facciamo un'altra fornace un'altra fornace e la piazzichiamo qua sotto e ci mettiamo qua c'è del copper uno, due, tre ok poi cos'altro volevo fare oggi? uh, mi sa che carcola ce ne ho? ce ne ho? ce ne ho? due di questi perfetto e intanto io direi che 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 ci facciamo una bella cosa ci facciamo una bella cosa il piccone di smeraldo e una spada di smeraldo questi qua poi si potranno anche riparare con una polverina che tra un po' vi farò vedere come si crea e intanto che qua cuoce dobbiamo sistemare un pochettino giù 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 questo qua mi serve dopo e ti mettiamo qua via 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 ho acceso anche un po' di di come si chiama di orsi ho preso abbastanza ho preso abbastanza fur si arriva qua e direi che ci facciamo un po' di armatura questo qua fur plate e leg fur leg vediamo sono un escuimese guarda che figlio sono un escuimese va bene qua come siamo dai muoviti muoviti che mi serve a questo punto mi sono arrivato di aspettare ci facciamo un'altra la fornace che serve sempre intanto tac e tac muoviti dai 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 su 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 eccolo qua perfetto ora mettendo il carpool qua e questa roba qua facciamo questa bella polverina che poi ci servirà vi faccio vedere subito questa qua che si crea con la redstone che però io non riesco a trovare con questa polvere qua mettendo questi guarda che ci sto girando e tre di quella polverina azzurra si potranno riparare completamente molto bene ora con questi qua e un bastoncino ci facciamo ci facciamo la dimmi rod la prima un pochettino così però mi serve la polverina quella quella che vi dicevo appunto azzurra per potenziarlo si metterà questo nella crafting table e altri e otto di polvere intorno per potenziarlo diventerà blu cosa fa questo? questo rileva i minerali che ci sono visto? non trova niente non trova niente se ne prendiamo la G potremmo cambiare il range che c'ha questo è il primo è a 3x3 l'altro sarà 16x3x3 e dopo quello che si crea con il diamante sarà 32 mi sembra comunque si è un pochettino inutile per il momento però intanto ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatto poi qua abbiamo finito vabbè non importa comunque c'è già questo che mi serve per tutto il resto perfetto vedete ho fatto il mini bosco dietro per creare tutto e è molto bene direi che oggi mi serve un po' di etro vetro 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 no andiamo a raccogliere un po' di sabbia andiamo a raccogliere un po' di sabbia in parte vedete la musichetta di minecraft rilassante 4 5 6 7 8 9 per il momento facendo così qua c'è qua sotto c'è la caverna ehi 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 la ma mi sa che va sotto 45 smerando dove siamo qua non ci vorrei che va giù tanto è che io voglio farmi la spada da oh si 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 fatta faccio la spada rossa con già di cattivo oh tin mi serve fare le batterie tin più buono bella sta caverna non so come uscirò però eh da dire la verità non so come uscirò vedete è abbastanza veloce come piccone è bello appunto che si può curare si può sistemare vale prendiamo un po' anche di questo tin dopo vediamo anche giù per di qua telecamera è spente e finirò di raccogliere tutto prendo qualche cosina giusto per oh ancora rubini rubini guarda quanti perfetto poi oh ciao belli uno due ah esplodere fanculo 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 oh è buono 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 quindi che scende abbastanza se ha fortuna di trovare i miei redstone direi se non muoio se non muoio qua dentro vediamo oddio ho sbagliato sbagliato ok così vediamo si blocca quanti blocchi io qua muoio sono sicuro che muoio nella lava sono sicuro che muoio sono adesso dopo ma comunque muoio si riesco chiusa ed è chiusa va bene va bene va bene attenzione qua vorrei raccogliere tutto più tardi vediamo se riusciamo a tornare su qua va giù si qua va giù neanche tanto no no cazzo no quella eccola quella è la lista eccola eh ragazzi ti metto un po' di culo una volta tanto così non serve facendo subito oggi l'attività di quella che abbiamo creato ma quanta bene 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 allora quanto resta ne ho fatto 27 27 di rest prendiamo un po' di questo farro ottimo ottimo basta finirò più tardi da solo questa è quella che sembrano gli amanti in realtà è una cosa inutile che serve per fare il vertile di il fanto più avanti e basta mi pare nicolite si chiama sempre reputata molto inutile dai acqua muoviti muoviti un dungeon adesso buono il ferro ok questi qua sono i zafiri sono gli azzurri mi ricordo Via 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 Un attimo Ci prendiamo questa Redstone E direi che torniamo in superficie anche Io direi che torniamo in superficie anche Ho aggiunto lo stack Cosa fa questa? Boh Però 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 Cosa ho di inutile qua questo? Ottimo Torniamo in superficie adesso Massimo se è troppo lungo vi taglierò il video Ciao Se c'è non luce a caso Faccio Qui per uno Due Tre colpi Buona Remanze Cristallo Guarda quanti minerali Qua non si sale E' un po' di questo Queste qua Che massimo ci graffitiamo qualcosa No, vieni su Perfetto Eh, qua salire adesso Salire qua adesso Qua c'è una calva Qua non si sale Allora 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 lo facciamo così Ciò che non bisognerà per farlo Ho manco Una scala Dritti per dritti Su Però non so come ha detto Nessuno Questa è troppo tempo Questa galleria Eh, voglia Però Sono sbuccato da qualche parte Guarda qua Guarda qua c'è E' bello Dai, dove è tutto Dai, muoviti Andiamo via Questa qua Gli smeranti Vediamo un po' C'è qualche punto che sale qua No, qua si scende Basta Tocca ancora salire Dai Salta Siamo a 45 Più o meno Dai In una puntata che speravo Ci siamo trovati Persino In una caverna Dai 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 Non lo arrivo Sa che sono Una montagna Ah, ecco qua Adesso L'ho arrivato No, non siamo arrivati Bene Ottimo Dai Ghiaia Olio Carbone Oh ragazzi Questa parte Ve la taglierò Oh Ed è anche notte Sono sbuccati Sì Waypoint Tadada Sbada fuori Poi andiamo giù Diretti E arriviamo al posto Di sono tanti minerali Perfetto 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 Una Sbuccati Sbuccati Questa qua Tanto la prenderla più tardi Allora Dentro Perfetto Ancora Facciamo Uno di ferro E uno di redstone Facciamo La covalence dust Se ne mettiamo Il nostro Debian rod Con la covalence dust Lo potenziamo E Andiamo Sbuccati G Vedi C'è anche 16x3 Vedi Best found Uno L'uno E la pietra 128 Non so cosa sia Non mi ricordo In questo momento Però là c'è qualcosa Molto utile Quando andiamo a scavare In caverna Perfetto Ora Io mi volevo fare Come avevo detto La spada Esit Una spada laser però Fa figo Mi piace Ah guarda che cattivo Rubino Che cattivo Una schimese Con una spada di rubino Che figo che sono Va bene Poi Ve lo farete un'altra cosa Se ne mettiamo Questo qua Vedete È un pochettino rotto Tra di questi Ci saranno Completamente Completamente a posto Molto utile Anche questo Perfetto Abbiamo finito Perfetto 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 Mettiamo a cucinare Un po' di tin Ottimo Mettiamoci un po' di minare Questa Questa qua la teniamo Per Per Come si suol dire Per riparare Quando siamo in caverna Una roba del genere Quanti fuori abbiamo? Nove Mi guarda così tanti Possiamo farsi anche I fit Perfetto Siamo Fuleschi mesi Ma che figa siamo Perfetto Giù 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 Ok Adesso Prendiamo Uno Uno Non mi basta Non mi so Qui davanti a due Intanto Iniziamo A scavare No Dai Quindi Perfetto Volevo farla qua Tanto così Dopo Espandiamo Un attimo Diete Cosa Vuoi fare Allora Mi aveva detto Che la faceva Allora Dove sono qua Eccoli qua Vetri Ci deve ai tre Vetri Vieni qua Quattro Vabbè Vediamo che si scurla in tempo Vieni qua Pietra Una E una Due Ottimo Muovite Muovite Dopo man mano Aggiungeremo Dai Veloce Dai 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 Ma ne manca soltanto il diamante Dopo possiamo già in sé A fare le cose un pochettino più meglio Eh già Eh già Dai Muoviti Muoviti Dai Veloce A posto Aspettiamo intanto Intanto andiamo a fare un po' di Di come si chiama Di carne con la nostra nuova spada Andiamo a controllare come sta Frankie Che non lo vedo e ho paura Non lo vedo e ho paura Perché è morto Perché è morto Frankie Ma va bene Ne creeremo un altro Ne creeremo un altro Di qua Un colpo Buono Mi dispiace per Frankie Ormai qua Allora Io ho visto un po' di zucca Per di là Tipo là Quella tigre mi sa che mi attacca Guarda che sono schimese Non rompermi Non rompermi Ti ammazza anche la famiglia Anche la famiglia Ti ammazza Dai Dov'è la nostra zucca Ah davvero un bel mondo Ti devo dire Davvero un bel mondo Dov'è Anche quel vulcano non è tanto bello E' così appoggiato sulla montagna Neanche un mob Neanche un mob Guarda che cosa Che roba Eccole la zucca Oh Andato un po' di fur Per quando Tanto finiamo questa spada Io direi anche C'è Quello quando mi si romperà Mario Buono Buono Muori Muori Ehi la Perfetto Anche te Muori Poi non hanno Niente l'esperienza Stai qua In questa casa Non è che fu Che gente Mamma mia Che gente Mamma mia Ho già capito Che avremmo bisogno Di tanti 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 Franky Quindi tante zucche Devo capire Come ha fatto A morire Però Franky Prendiamo Un po' di pallai nere Torniamo A casuccia Vai Grazie Ottimo Che bello Tante Tante palle di neve Ah Stacca di 16 Abbiamo 1 2 3 Ancora un po' Ecco Finta la palla Ma sono giusto Giusto Che figlio Che sono Va bene Wow Ti corri Sanno anche Nati Cobra Devo fare anche La tomba Per i due Franky Si penseremo Al prossimo episodio A fare la tomba Con i due Franky Chissà Come è morto Andiamo Giù in caverna Chissà Chi lo uccide Non c'erano Neanche Muori Non c'erano Neanche Palline Le per terra Non c'erano Quando muori Lascia Rimando All'ambo Il po' L'agilità Perfetto Ottimo Cietrici qua Perfetto 1 2 E non ci sta Il terzo 1 1 Tanche 3 Ciao bella Come stai Io sono Metà Le t2 Sono morti Quindi Quindi Per questo C'è il terzo E proveremo A morirmi Anche te Sono anche Stupido A scrivere Ottimo Faremo le tombe Non morirmi Non morirmi Io tipo Ci metto Anche qua davanti Non so che farei In tempo Come lo stesso Ma va bene Non mi importa Tigre Vediamo cosa farà Diventa questa spada 2 3 4 5 5 colpi Non male Entra dentro Vediamo E non sono ancora nati Strano Ci mettono Davvero tanto Penso che Che farò qua Stanza Qua la userò Non so Ancora per cosa Però Qua Ci volevo fare Una farm Perché Non mi fido Lasciarla fuori Per me Che cosa succede A Franky Non so Se voglio farla Dentro qua Prefisco Vare tutto in casa O al massimo Faccio una scala Che va giù qua Faccio sotto Vabbè Direi che ci facciamo Una mangiatina Prima Io faccio Libra Ci non mi viene La Come si chiama La La salmonella Io si prende con i pesci Ma non importa Io prendo la salmonella Con un Cosa di pollo Ne ho 7 Qua sono qui Non devo fare altri gesti Uno smistamento Minimo Smistamento Un pochettino Meglio Qua La Bene Si A 4 Non è Bastante Dai Dai Dammi Poi Giammete E Giammete Oh Sta calando Lo sole Quindi Io direi Che da Frankie il terzo Ciao Frankie Saluta Saluta Frankie Frankie saluta Frankie No Ciao Tramonto Da Medara E Frankie Non coprirmi Dai Medara lo jedi Ecco Ho sbagliato anche Il tasto Lucid Guarda che figo Che è però È tutto Ciao a tutti